Omicidio plurimo colposo aggravato dallo stato di ubriachezza. E' questa l'accusa nei confronti del 50enne romeno che ieri alla guida di una microcar ha investito ed ucciso madre e figlia a San Leo. L'uomo è stato trasportato dalla polizia municipale di Arezzo presso la casa circondariale di San Benedetto. Il tasso alcolemico rilevato era di oltre tre volte la media consentita dalla legge. La tragedia è avvenuta domenica pomeriggio intorno alle 18.30 a San Leo nella strada che conduce a Montione, proprio alle porte di Arezzo. L'investitore ha travolto Letizia Fiacchini, una bambina di 10 anni, e la mamma, Barbara Marzanna Stepien, 51enne di origine polacche, che era insieme a lei. Sono morte entrambe in seguito ai gravi traumi riportati nell'impatto. La piccola, poco dopo l'incidente, nonostante i disperati tentativi di soccorso di medici e di infermieri, e la mamma l'arriva al San Donato quando stava per essere caricata sul Pegaso. Alla guida della microcar, un 50enne romeno risultato poi ubriaco. L'investitore è stato arrestato. Momenti di alta tensione a San Leo dopo il drammatico incidente. L'automobilista è stato infatti portato via in mezzo alle urla della gente che hanno iniziato ad inveire contro il 50enne. Sul posto la polizia municipale e i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimare la piccola ed i vigili del fuoco che hanno estratto l'uomo dalla propria automobile. Sotto sciocchi il padre della bambina che è stato colto da un malore dopo essere arrivato sul posto. Si è reso così necessario l'intervento del 118. Anche una delle operatrici sanitari è stata portata in ospedale in seguito ad un malore.